Facciamo un saluto a Dina e Alina Averina che hanno lasciato l'attività Ah, non lasciato, si sono ritirate Purtroppo non abbiamo più potuto vederle per questa orribile, bruttissima guerra che ci avveriamo finisca tanto prima Ma le ginnaste non c'entrano nulla e quindi le salutiamo E qui stiamo alle clavette Alla prossima Sì, 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 sì. Bella atleta anche questa, davvero anche molto migliorata nell'ultimo periodo devo dire aveva iniziato la preparazione anche l'anno scorso l'abbiamo vista